Benvenuti nel mio giovedì! Oggi dopo scuola ho preso l'autobus e sono tornata a casa, PS guardate che belle scarpe che avevo, e ho pranzato con questo brodo, con un po' di pastina che quando inizia il freddo è proprio verde top. In realtà avevo veramente poco tempo per mangiare perché poi alle due e mezzo avevo un appuntamento in banca. In mezz'oretta me la sono cavata e sono ritornata a casa e ho dovuto scrivere una lettera motivazionale per poter iscrivermi al progetto PoliCollege del Politecnico di Milano, che è un progetto PCTO di orientamento. Per cui serviva una lettera motivazionale, quindi l'ho scritta e poi ho mandato anche la domanda di iscrizione. Il resto del pomeriggio l'ho dedicato a fare due versioni di greco e a studiare scienze per la verifica di domani. Dopodiché ho iniziato a truccarmi e a prepararmi perché Lauris stava arrivando dato che era tornata da Milano per andare a registrare un po' di contenuti insieme. Mi era mancata un sacco, era da due settimane che non ci vedevamo. E poi abbiamo cenato con un po' di salmone, che è il mio pesce preferito, insalata, carote, finocchi, un mandarino e ovviamente una fetta di crostata alla nutella della mamma. Tornata in camera ho dovuto editare il video di YouTube che sarebbe uscito il giorno seguente, quindi sono andata a letto veramente tardi.